Puntuale all'appuntamento di fine anno, l'associazione Pre-Stories di Emilio Izzo ha organizzato una serie di eventi nel centro storico di Sernia. Al nostro microfono ci racconta di cosa si tratti. Dopo il 2019, poi bloccati dal Covid, Brindisennia ritorna. Ma prima ancora di Brindisennia c'è una parentesi, credo, non ha niente affatto da sottovalutare perché è molto impegnativa e coinvolge la città. Lunedì alle 18.30 noi inauguriamo un albero di Natale che, come non si è mai visto, è un presepe all'interno di questo albero. Però la particolarità sta nel fatto che il presepe lo costruiremo con i bambini. Quindi dalle ore 15 invitiamo tutti i bambini a portare in questa piazza un pastorello, una pecorella, una casetta, quello che si vuole per allestire il presepe perché poi insieme lo faremo per poi inaugurarlo alle 18.30. L'albero, che è quello che vedete alle spalle, cioè la cassa armonica, diventerà un maestoso albero come nessuno ha, come nella logica di pre-stories, fare delle cose che in qualche modo attraggono e rendono Isernia, come dire, anche competitiva a livello di appartenenza e a livello di partecipazione. Questo albero è particolare, l'albero delle donne, perché sotto questo albero appenderemo oltre 100 palline rosse con i nomi di tutte le donne che sono state ammazzate e trucitate nell'ultimo anno. Quindi ha un significato notevole questa iniziativa, sì di festa, sì della vita che continua, nonostante qualcuno purtroppo ci ha lasciato a loro malgrado, ma avrà, come dire, una forte connotazione sociale e di lotta, di lotta a favore di quelle che sono le difficoltà delle donne. Poi arriviamo al 31, al 31 compri in disegna questa catena che si formerà dalla stazione a partire dalle 21.30 a 22, mano nella mano con un segno rosso.